La barussa, neve permettendo, vabbè chi è già qua, qui è giù, già più piccola rispetto a quello che era prima. Allora, chiediamo il cancello, perché sennò il cane esce. In sottofondo stiamo ascoltando le autostrade, il coper center, ecco, ci diamo che fendi sotto, un attimo che si ando per regolare una cosa. Vediamo un po' qua se va tutto bene. Ecco qua. Pronti a partire, temperatura esterna, beh, appena ho tirato fuori la macchina, quindi non possiamo sapere. Ecco qua, freno a mano, pronti, via, partenza. Boh, che strada facciamo adesso? Siamo chiari, è l'unica strada più pulita. Vediamoci i guantini, dove non fa tanto caldo. Ecco l'ABS che è già entrato, in pulsione, quindi bisogna andare a belasì. Come qualcuno dice. Mamma, ferma lì. Le camere che si è mosse un pochettino. Come avrete ben potuto vedere. Lo vediamo un po'. Ma è niente confronto a quello che c'era prima. Meglio, meglio. Ecco perché non pulivo i vetri, non avevo attivato l'atteggi. Un po' di riscaldamento, se ci vuole. Qui ecco l'ABS che entra in funzione. Andiamo a dare un'occhiatina al negozio. Poi andiamo giù di là. Verso dove sembra uno stia nevitando. Cosa un po' strano, però può essere. Visto il tempo pazzo di questi giorni. Anche se per me qualcuno mi sta prendendo un po' per i fondi. Però, boh, tutto è possibile. Velocità di crociera. 40 orari. Settiamo che ci hanno quei signori qua di pronto orari. Vedi l'autostrada. Russo, fermiamoci. Ecco l'ABS che entra in funzione. Quindi proprio bisogna stare attenti a come si frena. Infatti. Oh, giù verde. E anche partita è slitta. Non è più bello bello guidare stasera. Non è che però vedo che... Ehm...